Ogino, senti che festa che c'è oggi in sul paese, ven qua e dammi una strittina piuttosto. Poggia rosa, un'està tanta cingilla a te e dì che c'è festa di sera da mangiare. Ogino, lo sai che ti dico, mi è venuta noia di fare tutte le sere da mangiare e anche da ricovernare i piatti, piuttosto porti per il ristorante qualche volta. Mi, rosa, ci pensavo in questi giorni, dicevo quasi quasi porto la mia sposa mangiata al matto. E che mi vuoi portare ai denti rossi? No, rosa, il matto è un ristorante di Subiano per la via che va allo stadio e tu sapessi facerti cenoni e pranzi e venirti a far pesce. Però, ricordate che il mercutti si posa con la matta. E non ci credo no, Gino. O rosa, e ogni faceva la pubblicità alla radio con Stetogno, quelli del pudirino. O te, o sai che ti dico? Allora, preparati, prepara l'ape che mi donna pulita e ci si va subito da questo stupido. Anche il dialetto è una delle genuinità del ristorante e bar pizzeria Il Matto in Viale Martri della Libertà a Subiano, in provincia di Arizzo. Telefono 0575 48 123 Telefono 0575 48 3 Telefono 0575 48 45 53 Telefono 0675 47 Telefono 0675 49 Telefono 0675 58 Telefono 0675 48 Telefono 0325 Ό miglior 0675 35